Strada statale 640, da domenica prossima lo svincolo con l'autostrada 19 sarà in parte vietato. Ci sarà il parziale funzionamento dello svincolo, la rampa in uscita sarà chiusa per chi arriverà da Catania e sarà chiusa in entrata per chi viaggerà in direzione Palermo. Si potrà invece accedere in autostrada con direzione Catania e i veicoli con provenienza da Palermo potranno accedere allo svincolo autostradale ed accedere a Caltanissetta. Per chi arriva da Agrigento e Caltanissetta in direzione Palermo si entrerà dall'autostrada dallo svincolo di Ponte 5 Archie dopo aver percorso le statali 640 dir, 626, 640 in direzione sud, 122 bis e 121. Nei giorni di chiusura tutti i veicoli da Catania verso Agrigento o Caltanissetta continueranno in autostrada fino allo svincolo di Ponte 5 Archie, li invertendo la marcia rientreranno in autostrada per Catania e usciranno allo svincolo di Caltanissetta. Sarà vietato per i mezzi pesanti che provengono da Catania in direzione Caltanissetta l'uso dello svincolo di Enna. L'interdizione parziale dello svincolo servirà per realizzare i lavori che permetteranno l'apertura dello svincolo di Caltanissetta sulla A19.